Ciao a tutti da Andrea Cartotto. Parliamo quest'oggi di mappe mentali, un argomento a cui ho deciso di dedicare un videocorso tematico perché l'argomento della mappa mentale certamente non è nuovo, ma è utile parlarne perché ci mette a disposizione uno strumento veramente inclusivo. Il servizio che ho scelto in questo videocorso tematico è Coggle, scritto esattamente come state osservando sullo schermo, sito di riferimento Coggle.it. Coggle è gratuito, multipiattaforma perché si accede comodamente via browser con un qualsiasi programma di navigazione, è un servizio non totalmente free ma freemium, chi ha già ascoltato i miei videocorsi sa che un servizio è freemium quando ci sono alcune funzionalità accessorie a pagamento, però in questo frangente come in altri possiamo non disporne. Accediamo al servizio con un clic su registrati se è la prima volta che siamo su Coggle, altrimenti ci sarà sufficiente fare un clic sul login. Le possibilità offerte sono l'accesso mediante un account Google, che ricordo può essere un Gmail personale o un account scolastico Google Suite, o di un account Microsoft che può essere quello di Windows 10, di Office 365 for Education per chi ha quell'ambiente di apprendimento e via discorrendo. Io accedo con un clic sul sign in with Google e entro con il mio account Google, in questo caso personale, quindi lo vado a digitare, avrò cura di inserire anche la password e mi troverò nell'interfaccia, cioè la schermata di accoglienza di Coggle. Possiamo definirla una web application. La prima volta naturalmente avrete un cruscotto completamente vuoto, io siccome lo utilizzo da tempo, ho conservato una serie di mappe che mi possono fare comodo, ad esempio ne una sul cubismo, come potete osservare, ramificata con immagini, con links, perché la mappa su Coggle è anche interattiva. Come iniziamo a lavorare? Un clic sul più, crea diagramma. A questo punto ecco la finestra di accoglienza molto pulita che ci consente di iniziare a lavorare. Questo riquadro a destra, che si può comunque chiudere con la X, per chi non lo conosce è interessante perché ci sono comandi rapidi da utilizzare per una certa funzione. Quindi a nostra discrezione. Diversamente io consiglio per Coggle, semplicemente, o clic tasto sinistro del mouse o clic tasto destro del mouse per le opzioni. Ho immaginato di creare una semplice mappa per illustrare il teorema di Pitagora. Clic per modificare il titolo. Clic e io seguo i procedimenti. Il teorema di Pitagora. Guardate come è semplice ad esempio aumentare il corpo, si dice, quindi la grandezza del carattere. Prendo la maniglia angolare, tasto sinistro premuto, e andando piano, cosa che consiglio sempre, qualunque azione informatico digitale si compia, io vedo anche di quanto incremento o decremento. 50 pixel, quindi qua ci muoviamo in pixel. Ricordatevi che invece nella videoscrittura, quando mutiamo la grandezza, ci muoviamo in punti. Allora, il teorema di Pitagora. Molto bene, faccio un clic al di fuori, questo è il mio argomento centrale. Allora, andiamo un pochettino a commentarlo. Allora, il teorema di Pitagora. Perfetto. Clic sul più, vedete che il più ci consente di incrementare i nodi. Un clic sul più, ecco il mio nodo, chi era Pitagora. Essendo un programma, anzi una web application Coggle per le mappe mentali, ha delle funzioni peculiari dei programmi. Mi viene in mente Cmap, mi viene in mente FreeMind, uno storico software open source, e potrei ancora andare avanti. Ha delle funzioni peculiari, vi dicevo, quali l'inserimento ad esempio delle icone. Per specificare l'importanza dell'argomento, icone anche queste classiche da mappa mentale. Allora, in realtà in questo caso io sto facendo un focus, per cui chi era Pitagora? Question, quindi punto di domanda. Attenzione, siccome lavora con una sorta di codice Coggle, qui non sto ancora vedendo cosa ho fatto. La conferma di ogni mia azione si fa con un clic a vuoto, cioè al di fuori. Ed ecco qua, chi era Pitagora. Perfetto. Potrei valutare di inserire già in questo nodo una immagine. Se lo voglio fare, osserviamo un pochettino i pulsanti in alto, abbiamo un pulsante per la formatazione del testo, che in questo caso non ci riguarda, pulsante per aggiungere link ci interesserà, il pulsante per caricare un'immagine. clic, l'immagine deve già essere presente sul mio computer. Quindi in questo caso io clicco su download, nella cartella di sistema del mio computer, clicco sul busto di Pitagora, un clic su apri. Anche in questo caso è tutto normale, come vedete. C'è in formato codice attached, cioè vedo che ho allegato l'immagine, vedo le dimensioni, ma non vi preoccupate, lo anticipo subito. Coggle si occupa di ridimensionare le immagini. Io faccio un clic in un punto vuoto al di fuori ed ecco qui, chi era Pitagora. Perfetto. E quindi poi potrei ulteriormente dettagliare, potrei andare a specificare, anzi facciamolo, chi era Pitagora. Clic, filosofo e matematico greco. Un clic in un punto vuoto. Attenzione bene, se io faccio quest'azione dopo aver messo l'immagine ad esempio, vedete che il testo non è probabilmente come avrei desiderato, ma basta fare un'opportuna correzione o andare come sempre per gradi e non avremo difficoltà. Faccio un clic ancora sul più laterale, per cui aggiungo un nodo. Teorema di Pitagora, ecco, e vado a specificare. Si applica ai triangoli rettangoli e ho posto l'attenzione su un ulteriore punto. Un clic al di fuori, vado ancora a fare un clic sul più, qui inserisco l'immagine, in questo caso di un triangolo rettangolo con i cateti e l'ipotenusa, un clic sul mio pulsantino di inserimento immagine, vedete che è molto immediato e semplice, un clic sul triangolo che avevo precedentemente scaricato, un clic su apri, come sempre ho questo cruscottino che mi riepiloga il tutto, togliamola ora se ci dà fastidio questa finestra con i comandi rapidi con una X, guadagno schermo, vedete com'è pulito lo schermo, un clic al di fuori ed ho il mio triangolo rettangolo. A questo punto potrei desiderare un link a un sito di approfondimento, a YouTube e così via. Guardate, io faccio un clic sul più e preparo il mio nodo. Questi punti bianchi che vedete sono punti morbidi, tasto sinistro premuto con il mouse, che ci consentono sia di accedere a delle opzioni, ma ci consentono anche di vedere cose che possiamo fare, ad esempio dove trovo la X, delete connection, elimino il nodo per intenderci. Ora io in realtà in questo nodo volevo inserire appunto un link, d'accordo? Allora come facciamo? Mi apro una nuova scheda del browser, vado su youtube.com e cerco, a proposito del teorema di Pitagora, c'è un video molto carino, vediamo se lo troviamo qui, scultun, Pitagora, un clic. Il teorema di Pitagora, clic. Molto interessante, chiudo con X, io mi chiudo un attimino la mia finestra, apriamocelo un po' in grande, eccoci qua. Banalmente selezioniamo l'URL, cioè l'indirizzo esatto del video. Bene, tasto destro, copia, rifacciamolo per sicurezza, poi torniamo nella nostra mappa, area di lavoro con il cursore che lampeggia, sono questi gli errori di distrazione che commettiamo noi, ma commettono anche gli allievi, no? Dove c'è il cursore so che posso lavorare. Non lo vedo perché distrattamente ho cliccato fuori, clicco per riottenerlo. A questo punto ho un clic con il tasto destro del mouse e tasto sinistro del mouse su incolla. Ed ecco che ho riportato il mio link. Avrò fatto bene? Facciamo un clic a vuoto al di fuori. Voilà, sì, ho fatto bene. In questo caso ho una mappa interattiva, come vedete, è stato digerito l'URL del video cliccando anche il piccolo player che permetta la mia mappa di prendere vita. Tenete conto, però ora non mi dilungo, ma desidero anzi che grazie a questo videocorso possiate mettere in pratica queste procedure. Cliccando sul più io posso andare avanti a generare altri nodi e i nodi vanno poi a ramificarsi ulteriormente. Quando ho terminato cosa faccio? Allora, intanto ne approfitto anche per mostrarvi che siccome Coggle si utilizza anche in classe e sulla LIM, da che il servizio esiste, non nasce oggi come i principali servizi per la didattica digitale, cliccando su presenta questo Coggle avrei uno schermo intero senza fronzoli per cui mi concentrerei solo e soltanto sulla mappa. Pensate che bello aprire questa su una LIM o su uno schermo touch ad esempio e cliccare ed avviare la riproduzione del video. Gli altri pulsanti sono il pulsante per condividere questo Coggle e ci interesserà, il pulsante per scaricare questo Coggle. Faccio un clic, ci interessa per capire in che formati lo possiamo scaricare. Attenzione, in questo caso il PDF tende a non perdere l'interattività, ad esempio dei links, però non aspettiamoci che dal PDF il video necessariamente prenda vita, però posso scaricare in formato PDF, in formato immagine PNG o in un formato MM Mind Map perché sempre da prendersi con le molle questa indicazione, se ho programmi specifici, mi viene in mente il Free Mind, programmi specifici per le mappe che aprono e modificano i file MM, allora posso pensare di modificare anche questo. Quindi per lo scaricamento già ci siamo detti. Vediamo la condivisione. Un clic su condividi questo Coggle. Questo Coggle in questo momento è privato perché ho l'interruttore su no. Al bisogno posso cliccare, mettere l'interruttore su sì. In questo caso entro nel ragionamento di fare community, di fare comunità, ho creato una mappa molto bella, la voglio rendere consultabile all'interno della comunità di Coggle, posso accendere l'interruttore. Lo lascio su no. Nuovo link, un clic ed ecco semplicemente il link che consente all'utente, copiandole ed incollandole in qualsiasi browser, di vedere la mia mappa con una estrema facilità. Il pulsante qui accanto fa sì che i visualizzatori possono creare le proprie copie. Se voglio limitare anche questa funzione, con un clic sbarro il doppio quadretto. Questo è il link di riferimento che io vado ad utilizzare, quindi seleziono, tasto destro, copia. Vi esorto a vedere il mio videocorso su Bitly che trovate qui nel mio canale YouTube perché ovviamente questo link è ancora poco comodo, lungo, ma se utilizzo il servizio Bitly, come vi spiego nel precedente videocorso, posso creare un semplicissimo link del tipo bit.ly slash teorema di Pitagora, da mettere sul registro elettronico, in classroom e in altri ambienti di apprendimento. Per cui, per la condivisione allievi, questa è la funzione. Vi mostro un secondo dove c'è Andrea che si parla anche di lavoro collaborativo. Eh sì, perché io posso invitare persone a lavorare su questa mappa. Io clicco sul più, inserisco un indirizzo email, clicco su invia e a questo punto, funzione similare ad altri contesti di apprendimento cooperativo, abbiamo, ci troviamo dunque ad avere nel nostro cruscotto di Coggle, nella sezione condivisi con me, questa mappa alla quale possiamo, diciamo, effettuare modifiche, sulla quale possiamo effettuare modifiche che saranno visualizzate da tutti gli utenti collaboratori. Dunque, utenti collaboratori, utilizzo il più accanto a AC, in questo caso l'utente principale che sono io, condivido in visualizzazione comoda per tutti gli alunni e non solo, tasto apposito condividi con freccia rivolta verso l'alto. Ora, non vi resta che testare la vostra mappa mentale, spero anche in questo caso di essere stato utile, vi auguro una buona giornata e buon lavoro. Ancora un saluto da Andrea Cartotto.